Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo fare le pagelle della partita di ieri, ma poi ieri sera sulla tarda notte è arrivata la notizia tramite Fabrizio Romano, ma non era ancora ufficiale che Olle era stato cacciato praticamente, cioè è stato cacciato dalla società, ieri infatti ho pubblicato un post su Instagram, una storia e poi ho aspettato che quella notizia diventasse ufficiale così da fare il post, ieri ho fatto il post, ieri notte e vi avevo già avvisati che oggi usciva questa sorta di addio Olle, perché voglio fare questo video? Principalmente perché non se ne poteva più, e lo sapete che io sono un amante sfegatato di quell'uomo, io l'ho sempre difeso e chi mi segue da tanto tempo sa che mi sono preso anche tanti insulti per questa cosa, molte volte mi trovavo a difendere delle cose indifendibili, ma perché dicevo bisogna dargli tempo per costruire, perché ci vuole tempo per costruire una squadra, ma nell'ultimo periodo era veramente diventato qualcosa di orripilante, perché la partita che hai disputato, che abbiamo disputato ieri, è stata qualcosa di orribile, una partita che ci ha dimostrato che avevamo troppi limiti per la squadra che abbiamo, e quindi io come mi aspettavo l'esonero contro il Manchester City, che poi non è avvenuto e non si è capito il perché, è arrivato dopo 5 ore di riunione, perché loro hanno fatto una riunione di emergenza, 5 ore a parlare sul futuro di un allenatore che nelle ultime 11 partite di Premier League era vinta una, spendendo 80 milioni per Sancio, 50 milioni per Varane, diamo 20 milioni a stagione anche di più a Ronaldo, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una squadra con un budget sia di trasferimenti che ingaggi enorme, enorme. Nelle ultime 11 partite abbiamo vinto una sola volta, se non erro, se sbaglio scrivetemelo nei commenti, ma se non sbaglio 11 partite di Premier League, una vittoria abbiamo fatto, e praticamente con problemi incredibili da tutte le parti, perché forse l'unica cosa che funzionava nell'algoritmo di Olle era Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, i restanti venivano uscurati oppure si salvavano solo chi aveva la personalità, per esempio Rashford, i restanti come Maguire sotto tono, ma qui dopo andiamo al discorso anche dei giocatori, un Maguire sotto tono psicologicamente non concentrato e continua a giocare, un Bissaga che non so, è due mesi che ha iniziato il campionato, tre mesi, e è tre mesi che questo sta a far più cappelle che giocate fatte bene e continua a stare in titolare, Shou non dà più la grinta e la voglia che dava l'anno scorso e continua a stare lì titolare, quando hai delle alternative, io posso capire in altri ruoli che le alternative non le hai di livello forse, ma poi poi, ma in difesa, soprattutto nelle fasce sia difensive che offensive, hai una marea di scelte, una marea di opzioni che noi, che lui, non sapeva utilizzare, era il momento di mandare via, e a me non interessa chi viene, perché io già leggo dei tifosi che sono veramente orripilanti, che già si stanno lamentando dei possibili sostituti, perché ovviamente il nome che vogliono tutti è Zidane, ma è ovvio che Zidane è proprio l'upgrade, che non si sa se può rivenire perché lui non è convinto di venire a Manchester, ovviamente per la situazione che viviamo, perché poi non ha tempo neanche di sondare il terreno che già le partite da giocare, e poi ci sono altri nomi come Rogers, che già la gente si lamenta, è stato messo blank, se non erro, tra i possibili papabili sostituti, neanche quello va bene, noi dobbiamo prendere l'allenatore da 30 milioni a stagione, ormai siamo abituati in questa maniera, io ragazzi chi viene viene, lo sapete come la penso, può anche venire Fletcher, può venire chi vi pare, io appoggerò sempre il prossimo allenatore, è ovvio che adesso contro il Villareal tu non hai l'allenatore, ragazzi ora sono le 13.43, ragazzi noi martedì alle 18.45 giochiamo contro il Villareal, in casa il Villareal, manca pochissime ore che mancano veramente 24 ore, manca veramente pochissimo tempo e noi ragazzi non abbiamo un sostituto, e al momento non credo che la società possa andare a prendere un nome conosciuto come Zidane, come Rogers, non penso che sia una trattativa possibile e facile soprattutto, perché è poco tempo, tu in poche ore dovresti chiamare Zidane e fare una trattativa velocissima, cosa che non credo che possa avvenire, quindi io credo che i sostituti possano essere due per questa settimana, settimana barra partita col Villareal, dopo la partita col Villareal, cioè partita il Villareal e poi va via anche questo sostituto che si chiama Fletcher o Carrick, due ex leggende, tra virgolette, perché sì, due ex grandissimi giocatori dello United, storici, due grandissimi giocatori storici, Carrick è veramente fenomenale, Fletcher lo era un po' di meno, però due grandissimi giocatori a livello di club conosciuti da noi tifosi come lo era Olle, quindi prende uno di questi due e farlo allenare per la partita con Villareal, questa è l'intenzione della società e non è del tutto sbagliata, ma fa incazzare il fatto che tu hai aspettato, cioè le due settimane nazionali, cosa stavi facendo? Cioè tu hai dovuto poi fare queste cinque ore dove vi siete seduti sul tavolino a parlare di cosa? Di cosa bisognava parlare? Di cosa bisognava parlare? Io penso che non bisognava parlare di nulla, questo esone lo doveva venire dopo due ore, dopo due ore, dalla fine della partita, non in tarda notte. Quindi adesso noi avremo la situazione veramente brutta, perché abbiamo il Villareal, poi il Chelsea, poi l'Arsenal, poi abbiamo la Champions League, quindi la situazione è veramente, veramente, veramente delicata, veramente, veramente brutta. Ma io voglio fare un discorso a quei tifosi che credono già che il veleno di questo club sia finito. Non è così, perché come si dà la colpa a Olle, bisogna dare la colpa anche a chi giocava, perché determinati errori avvenuti in questi tre mesi di questo inizio di stagione non sono solo colpa di Olle. La mancata marcatura nel gol dell'Eister, se non erro nel secondo gol, di chi è la colpa di Olle? O dei difensori che non sanno marcare? Il gol contro il Liverpool dove Shaw, il gol che abbiamo preso contro il Liverpool dove Shaw e Maguire si scontrano e fanno un errore da veramente, da serie D, di chi è la colpa di Olle? I continui errori sottoporta, di chi è la colpa di Olle? No. La colpa, ovviamente Olle ne ha, e ne ha veramente tanta, sulle sconfitte che abbiamo ricevuto nelle ultime giornate. Ma non puttiamo il dito solo a un uomo, perché è facile fare così, è facile sputare e spalare merda a una sola e singola persona e tapparsi gli occhi e far finta di non vedere gli altri errori, perché non è così. Non crediamo che adesso si arriva Blanc o viene Zidane o viene Rodgers, Maguire diventa top forma, incredibile, uno dei migliori giocatori della storia dello United. Non crediamo che Pogba si riabilita di capoccia. Cioè, non pensiamo che i problemi si risolvano cambiando allenatore. Non è così, non è così. Qui bisogna cambiare dalle fondamenta, e non sono io a dirlo, perché gli stessi De Gea e Bruno Fernandes ieri in un'intervista lo hanno detto. Hanno detto che l'errore non è solo di chi conduce la squadra, ma anche di chi gioca in mezzo al campo. Ragazzi, ieri abbiamo fatto schifo a livello tattico, quindi anche colpa di Olle, ma anche a livello fisico e mentale. E fisico e mentale è colpa anche dei giocatori, perché un Marziale che subentra nel secondo tempo e sembra Casper, sembra un fantasma, non tocca quattro palloni e desti quattro, tre li sbaglia. Scott, che stava dal primo minuto titolare, ha vinto due contrasti e poi l'ha persi tutti. Matic è l'unico che ci dà la consapevolezza in mezzo al campo, con le esperienze poter fare più, ma non ci ha fiato. Bissaka, che continua a fare errori e su errori mentalmente non c'è, fisicamente lasciamo perde e se dà solo la colpa a Olle, ragazzi, no, non funziona così, non funziona così. Bisogna anche aprire gli occhi e capire che il tossico di questa squadra non è stato e non sarà solo l'allenatore, ma di veleno dentro questo club sono anche alcuni giocatori e anche la società, perché in questa condizione che ci siamo trovati adesso ci troviamo così anche per colpa della società, che ci ha lasciato lo sbando per un mese e mezzo, perché è come se lo United non è realmente comandato da nessuno. E questa è una cosa un po' vergognosa per un club storico come lo United, ma ormai ormai io ci ho fatto l'osso, ragazzi, ormai so la gestione di questa squadra, chi la fa, so la gestione come viene fatta, so che il presidente non c'è mai, quindi ormai ci ho fatto l'osso, ragazzi, ci ho fatto veramente l'osso. Io l'unica cosa che mi auguro è che chiamino come direttore sportivo questo maledetto Van Der Sar, o comunque sia un ex calciatore di sangue Red Devils perché ne abbiamo bisogno, lì non c'è uno che ci caccia le palle, lì c'è bisogno di un uomo che si sappia prendere le responsabilità. Gary Neville che parla tanto, che sa parlare, no? Si mette lì, si critica Olly, Olly non sa fare questo, Olly non sa fare questo, bene, allora entra nella società al 100%, mettiti lì, prenditi le responsabilità anche tu di quello che dici, perché dall'esterno, ragazzi, lo sapete, io queste cose non le sopportavo, non le sopportavo neanche con Mourinho, non le sopportavo quando le facevano con Van Gallen, non lo sopportavo da piccolo quando le faceva con Moyes, cioè, quelli che parlano all'esterno come gli ex come se fossero superiori a tutti e ne capiscono di più degli altri, bene, entrate nella società, entrate realmente nei problemi del club, perché loro essendo ex calciatori lo sanno cosa i tifosi non vedono, perché lì in mezzo non mi potete venire a dire che la colpa della gestione degli acquisti di tutto è solo colpa di Olle perché allora qua ci stiamo a raccontare la favola per cercare di dare la colpa come vi ho detto prima al singolo quando non è così svegliamoci svegliamoci e questi qui che parlano si prendano la responsabilità uno come Gary Neville io lo vorrei vedere nel club all'interno proprio al 100% non solo sui programmi televisivi inglesi perché io me ne sbatto di quello che dici su un programma televisivo io voglio che stai lì all'interno del club che parli con i giocatori perché in questo momento a noi ci serve gente del genere ci serve gente con i coglioni perché Neville ha i coglioni va in campo d'allenamento e cacci i coglioni a chi non li cacci in campo perché è così ragazzi qui c'è bisogno un attimo di una svolta e bisogna cambiare proprio mentalità qua non crediamo cioè non posso vedere leggere post o comunque sia sui telegiornali e le testate giornalistiche è adesso che Olle è andato via lo United riparte e si rivince ma di che cazzo stiamo parlando ma veramente stiamo a dare il 100% delle colpe a Olle cioè ragazzi il 60-70% a parer mio sì perché la gestione la fa l'allenatore lo sapete come la penso però ormai nel calcio è così la colpa e la responsabilità nel calcio è così è stato sempre così se la prende sempre quello che guida la nave che vi ho detto la colpa se l'ha presa lui ma perché il 60-70% delle colpe è la sua ragazzi il restante 30 dove lo mettiamo quel restante 30 può rovinare un altro allenatore che viene non crediamo che se viene Zidane questi problemi spariscano sì c'è una probabilità più alta ma gli altri giocatori ci mettono la testa perché se no tu puoi far venire anche Sir Alex dei tempi d'oro ma se lì ci stanno giocatori che non hanno voglia di fare un cazzo praticamente la situazione rimane sempre quella quindi non è risolta io non sto col fiato adesso oh che bello hanno esonerato olle che sollievo sì un po' il magone mi si è levato perché non ci riuscivo più io c'ho i polmoni che mi pesava 10 kg l'uno per quanto fiato ho buttato dentro per quante parole ho trattenuto in live sì logicamente un po' di peso mi si è levato ma ragazzi il magone lo ho cioè io ho ancora la paura di fallire perché ragazzi cioè qui non è non è finita non è finita la nostra crisi non è ancora finita possiamo dire che possiamo chiudere questa porta e riaprire un ciclo poter riaprire una nuova avventura con un nuovo allenatore ma lo spiraglio lo spiraglio della crisi è ancora intorno a noi non crediamo che sia finita qui ragazzi svegliamoci svegliamoci perché questi problemi sono colpa di tutti non solo di uno dopo è ovvio che l'allenatore si deve prendere le responsabilità e se le ha prese se le ha prese perché da come si è capito olle ha parlato con la società e c'è stato l'accordo consensuale cioè entrambe le parti hanno deciso di chiudere perché forse olle ha capito e aveva chiesto scusa pure ai tifosi ha capito che la cosa non poteva continuare quindi ragazzi adesso testa al via real vedremo vi terrò aggiornati uscirà il video domani molto probabilmente perché tra poco o forse più tardi riuscirò a far uscire un video dove vi dirò il possibile sostituto perché ancora non si sa si parla di Fletcher di Kerry subito di Zidane vedremo vedremo diamo tempo al tempo e speriamo che questa situazione si possa risolvere al meglio perché non se ne può veramente più non se ne può veramente più ci rivediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti